Ciao a tutti, eccomi tornata con un nuovo video. Oggi, videotag. Allora, ovvero, da quanto tempo che non cadi in pubblico? Da ora è tanto, anzi è un annetto. Da quanto tempo che non ti spaventi? Non me lo ricordo. Da quanto tempo che non guardi un cartone animato? Mesi. Non mi ricordo più decisamente quanto prossimo. Da quanto tempo che non vedi il tuo o la tua ex? Sono precisamente due anni, io credo. Sì, più o meno due anni. Sì, due anni. Da quanto tempo che non vai in discoteca? Più di un anno. Da quanto tempo che non vedi tuo fratello o tua sorella? L'ho visto, mio fratello l'ho visto, l'ho visto qualche giorno fa. Non mi ricordo più decisamente come qualche giorno fa. Da quanto tempo che non balli? Ho più di un anno. Da quanto tempo che non fai un bel gesto per qualcuno di sconosciuto? Penso di non averlo mai fatto. Anche perché nessuno. Da quanto tempo che non bevi alcolici? Non è tanto. Da quanto tempo che non vieni interrogato? E saranno 5 o 6 anni. Da quando ho finito i superiori? Da quanto tempo che non parli con tua mamma? Da oggi? Che ieri ci ho parlato. Da quanto tempo che non ti depili le gambe? L'ho fatto qualche giorno fa. Da quanto tempo che non giri nudo per casa? Non l'ho mai fatto. Da quanto tempo non fai sesso? Da quanto tempo che non canti in pubblico? Non ho mai cantato in pubblico. Da quanto tempo che non ti fai un tatuaggio? L'ultimo, gli ultimi due anzi. Ne ho fatti a gennaio, a fine gennaio. Però penso che me ne farò un altro. Da quanto tempo che non fai figure di merda? Non me lo ricordo. Da quanto tempo che non ti commuovi fino alle lacrime? Penso di non essere mai commossa fino alle lacrime. Da quanto tempo che non fai le doccia? L'ho fatta poco fa. Da quanto tempo che non mangi sushi? Questo è tanto. Avendo il fratello che c'ha un ristorante di sushi, è tanto che non vado a mangiare sushi in pazienza. Da quanto tempo che non ti ubriachi? Sarà due anni. L'ultima volta che ancora non stavo con il mio ragazzo attuale. Da quanto tempo che non guardi il sedere di una o un tipo? Penso che... Non lo so. Ma penso che non l'avete mai guardati. Ma francamente non lo so. Comunque, questo è un mio video tag. Mi raccomando, lasciatemi tanti like, tanti commenti qui sotto. Seguitemi sempre sui social, come vi dico sempre in ogni video. Seguite anche il mio secondo canale, sulla mia pagina Facebook, tanto vi lascio tutti i link, cliccate lì giù nell'info box. Iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto. Io vi mando un grosso bacio, mi raccomando, ditemi anche quale video vorreste che io facessi e ve lo farò. Vi mando un altro grossissimo bacione e ci vediamo al prossimo video.